Le autorità militari e l'amministrazione comunale di Treviso hanno voluto che questa caserma diventi luogo pubblico di memoria per onorare le decine di migliaia di persone a cui furono inflitte gravi sofferenze fino alla privazione della vita. Non solo la feroce macchina di sterminio nazista, il campo di concentramento di Monigo alla caserma Cadorin dove trovarono la morte 200 internati di cui 53 bambini ricorda nella giornata della memoria che l'orrore si è fatto spazio ovunque. Violenza e prevaricazione che hanno però un contraltare. Nel campo di Auschwitz I vi è il patibolo dove fu impiccato Rudolf Hoss che era il comandante di Auschwitz e questo ci ricorda che accanto alla cattiveria, alla malvagità umana, vi è alla fine anche la giustizia. Autorità civili e militari per la deposizione di una corona dall'oro alla lapide che commemora le vittime. Un monito intergenerazionale proprio perché non si ripresentino situazioni contro l'umanità. Noi dobbiamo continuare a lavorare da un punto di vista culturale investendo nelle future generazioni, nei più piccoli che vivono in pace fin dal primo giorno della nascita, evidentemente gli adulti sono coloro che generano ancora conflitti nel mondo quindi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad investire sulla pace. Domani per volontà di Istresco, comune, provincia di Treviso, nel parco di Sant'Artemio di fronte al palazzo della Presidenza ci sarà la posa di quattro pietre d'inciampo. Posizionare queste quattro pietre d'inciampo che ricordano quattro pazienti del Sant'Artemio deportati durante il periodo della guerra è un momento che renderà memorabile e che dura nel tempo questa celebrazione.